Ragazzi, questo deve far riflettere, cioè, qui si sta perdendo la ragione, si sta perdendo tutto, aiù! Da Versa che si avvicina, avvicina ad Henry e gli tira una testata in bocca, così, solo perché il giocatore del Verona perdeva tempo alla bandierina e ha, diciamo, un po' stuzzicato i giocatori del Lecce, cioè, ragazzi, qui si sta perdendo il senno, cioè, ragazzi, qui è grave la situazione. Io spero che venga esonerato oggi, subito, ma se non viene esonerato che sia data una squalifica esemplare, perché non puoi fare una cosa del genere, uaiù! Un allenatore che va a dare una testata in bocca a un giocatore, ma ragazzi, ma voi siete pazzi? Ma voi non state buone con la coppa? Cioè, io ho capito che la situazione del Lecce in questo momento in classifica è grave, anzi, è gravissima, perché il Lecce non vince da non so quante partite, ma tu perdi la testa così, uaiù! Non è normale, cioè, uaiù! E allora la prossima partita che fai? Perdi 2-0, picchi l'albitro, perché l'albitro non è normale, la testata è in bocca, no, ma proprio no, uaiù! Questo non è normale! Io ve l'ho detto, spero una squalifica di minimo un mese, due mesi, tre mesi, anzi, fino alla fine del camion, non so, dieci giornate, tutte dieci giornate a casa, e spero che il Lecce a questo punto lo butti a casa e lo vada a denunciare, anzi, spero che il Lecce a questo punto lo vada a denunciare, perché, uaiù, non è possibile, non è ammissibile una cosa del genere, uaiù! Non è ammissibile dove c'è le telecamere di tutto il mondo puntate addosso, tu vai a dare una testata in bocca al giocatore, uaiù! Ma veramente state facendo? Non ci siamo, uaiù! In Serie A non ci siamo proprio, uaiù! In Serie A stiamo dietro anni luce, uaiù! Rispetto al resto d'Europa! Clamoroso! Clamoroso!